Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Fabio, 22 anni, frequento il terzo anno del corso di laurea in matematica. Studiare matematica all'insubria per me è un'esperienza entusiasmante che mi sta insegnando molto sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista intellettuale. Ricordo che quando dovevo scegliere l'università non avevo grandi dubbi, ero abbastanza deciso sul fare matematica. Più che altro mi domandavo cosa avrei potuto studiare. Difatti per me la matematica si fermava all'analisi fatta in quinta superiore con derivate integrali e basta. In realtà poi sin dai primi giorni di università ho scoperto moltissime nuove teorie affascinanti come ad esempio l'algebra e la geometria che sono completamente diverse da quelle che si fanno a scuola o l'analisi stessa che viene rivista in maniera molto più astratta e dettagliata. Al contempo ho anche studiato materie più concrete come ad esempio la fisica, la programmazione o anche il calcolo delle probabilità con applicazioni alla finanza. Il terzo anno poi mi ha permesso di inserire nel mio curriculum moltissimi esami a scelta. Infatti ho avuto solo un esame obbligatorio e ho potuto inserire gli esami che più ritenevo adatti alla mia persona. Quindi che dire, ti aspettiamo all'insubria! Grazie!